Iva Zanicchi distrutta al Gano mattina estate. Vuoto enorme, grande dolore. Nota cantante interviene al Tg1. Tristezza e dispiacere per la morte di Toto Cutugno. Ha sconvolto tutti la notizia della morte del noto cantante e compositore italiano. L'artista, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, è venuto a mancare nel pomeriggio di ieri, dopo una lunga malattia. Giorgia Cardinaletti questa mattina ha dedicato tutta la seconda parte del Gano mattina estate al ricordo dell'artista con ospiti in studio, video, telefonate e collegamenti. Al telefono con la giornalista di Rai 1, Iva Zanicchi non ha potuto fare a meno di esprimere il suo grande dolore per la morte dell'amico e collega. Lascia un vuoto enorme, una grande tristezza, un immenso dispiacere e dolore. È terribile saper di non poter più vedere una persona così importante, cara, carismatica. La cantante ha ammesso che l'artista era amatissimo anche in Unione Sovietica, in cui ha lasciato un segno indelebile, così come in Italia. La sua canzone, l'italiano, è infatti considerata da molti l'inno del paese. Purtroppo non è mai successo questo, il rammarico della nota cantante. Lo incontravo nelle grandi occasioni, ha raccontato Iva Zanicchi, riferendosi a Toto Cutugno, scomparso ieri. Sanremo, buona domenica, canzonissima, questi i palchi condivisi dai due artisti. Ha poi svelato che il cantante ogni volta che la vedeva le diceva che voleva scrivere una canzone per lei per la sua grande voce. Purtroppo non è mai successo, ha svelato l'artista che ha usato parole lusinghiere per il collega definito come, una persona buona, con un animo unico e pregi che difficilmente si trovano. Ha infatti dichiarato in diretta al Gano mattina estate. Potevi parlare serenamente di tutto con lui, sapeva ascoltare. Iva Zanicchi ha a cuore aperto sul collega scomparso, aveva il successo dei grandi. Arrivava dritto al cuore delle persone Toto Cutugno, come dichiarato dalla cantante di Ligonchio che ha sottolineato. Aveva il successo dei grandi, arrivava al cuore del pubblico con semplicità e questa è la cosa più difficile da fare. Ha poi proseguito ammettendo che era unico proprio perché aveva la capacità innata di riuscire a comunicare in modo semplice, diretto ed efficace. La morte del cantante ha lasciato un dolore immenso nel cuore di tutti e in particolare di chi lo conosceva, come Pippo Baudo che ieri al telegiornale serale delle 20.00, come riportato poco fa da Giorgia Cardinaletti in diretta, ha raccontato sugli ultimi giorni del collega e amico. Era molto malato, ha sofferto tanto, ma ha vissuto la malattia con coraggio.